Ciao a tutti, oggi apriamo un'altra bellissima collezione, la collezione speciale Morpeco Viunione, perché come sapete quattro carte che si uniscono. Qua c'è il bellissimo Morpeco. A me piacciono queste collezioni che hanno questi bordi un po' più orribili, ovvero che troveremo in questa bellissima collezione di Morpeco, quattro carte promozionali che fanno appunto l'unico Morpeco Viunione, una carta gigante di Morpeco Viunione, un'altra carta d'aiuto della professoressa Magnolia, quattro buste di espansione che apriremo sperando di essere fortunati e una carta codice. Morpeco Viunione, questa collezione è uscita a qualche mese fa. Vediamo un attimino rapidamente che cosa abbiamo all'interno, così potete valutare con attenzione se la volete aggiungere alla vostra collezione o meno. Intanto togliamo la plastica, sempre molta plastica, del resto non c'è altro modo. Togliendo questa plastica cartica, io farei una cosa. Allora intanto per prima cosa vi faccio vedere la carta jumbo unita. Vedo grandissimo spazio su e giù, secondo me dovevano stampare un po' più grande, sono tutto il bordo pieno di spiegazioni, perché essendo ovviamente l'unione di quattro carte, come vedete ci sono varie indicazioni a seguire. Bene bene, dopo di che ci siamo vi faccio vedere i pacchetti che si trovano, che sono astilucenti con Arceus, astilucenti con Shymie, Regno Reciale con Zapdos e un tristissimo e bruttissimo stile di lotta che o ci regala l'alternativa di tirani, darò pure a noi, non interessa. Comunque, detto questo, vi sposto un attimino i pacchettini, adesso li apriamo subito. Cerco di recuperare le carte, sì, cerco di recuperare le carte promo. E allora è di unione. Un secondo che adesso proverò a farlo. Intanto questo è il codicino per voi. E adesso, per far vedere meglio le carte, quello che faccio è di fare un piccolo zoom con la telecamera. E a questo punto, guardate qua, questa è una delle quattro carte della riunione, questa è un'altra carta, la mettiamo qui a formare Morpeco, questa è l'altra, con la parte di faccia sorridente di Morpeco, e infine quella con i punti, 310 punti di salute. Eccola qua. Ecco, come dicevamo prima, c'è anche la carta della professoressa Magnolia, che è la Bromo Svsh. Ma perché hanno sceso giusto lei? 167, per le caratteristiche che ha. Cerca il tuo mazzo fino a due carte, scartala e poi mischia e marco il tuo mazzo. Chi la vuole la può usare. Noi intanto la mettiamo da parte. Vuoi iniziare tu o inizio io ad aprire i pacchetti? Inizio io. Inizi tu? Va bene. Allora scegli i pacchetti che vuoi aprire e andiamo avanti. Su, che pacchetti vuoi aprire? Io voglio aprire, astrocenti, astrocenti e astrocenti. Ah, quindi ti sei rubato il mio fantastico Shining, va bene. No, va bene, non cambia niente. Non cambia niente, è sicuro che non cambia niente? Sì. Bah, non voglio responsabilità io. Aspetta. Ah, sei indeciso? Quale vuoi? Io voglio Shining. Ok, perché voi, quelli che scelgo io, perché sono fortunati? Ah, al contrario. Tanto è sempre la nostra collezione, non è che fanno altre volte. No, perché poi tu sei fortunato e sfortunato e non è giusto questa cosa. Vediamo. Nero. Nero, Orceus. Grazie del pacchetto. Allora, astrocenti, che possiamo trovare? Cioè il Charizard Hyper che ancora non l'abbiamo trovato. Parliamo dell'LTG però. No, dell'LTG l'abbiamo, che ci manca in astrocenti. astrocenti. E io dovrei poter dire una Fosson Corpish, golet, chimico, cinciolo, energia psico. Premo i... come scrivo? Premo un'inzione di Marti. È il mio parentore, dai. Cosa c'è la Fosson Corpish? È, è il mio parentore. Cosa c'è? Tu hai fai i buoni? Cosa c'è? E... era nera? Sì. Ah, una... non è, no. No! ma era l'era, forse la seducente non c'era questo discorso del bianco Luxray, Luxray, very good, come va io la capi? Stilotta, ti immagini che ora trovo, quel tirai per il famoso che cerchiamo da tempo e che non troviamo Ma hai detto che non è che abbiamo aperto tante cose, Stil? Ma sicuramente l'hai aperto nel TV, ecco si trova spessissimo in tante collezioni che abbiamo aperto Questo è fare quello bene, interessante Non ci ho fatto, ah qua non c'è l'ero bianco 1, 2, 3, 4, 1, 2 Ti guarda? No Frilish, tigordella, timo, tarig, bimiao, energia acqua, ventaglio delle onde, globat Globat Ah, proglad Delle versi? Crotons Dici che c'è qualcuno? No C'è una rara fuoco che è Chanty Scorch Che abbiamo provato parecchie volte Anche questi pacchetti non sono stati particolarmente fortunati Vediamo se gli ultimi due pacchetti ci danno qualche sorpresa Io inizio con Regno Caciale Mi apro Zapdos Ti piace Zapdos? Sì Moltres Moltres Poi c'è Atomo Sì, sì Bravo, bravo E poi c'è E poi c'è E va bene così, sono tre Questi sono Si apriendo il Regno Caciale Cofling Slowpoke Dirling Lapras Dico Melania Swirlix Sembra una caramella Swirlix Energia lotta Aft Aft Sentiero Biancacima Kakuna che da un po' mancare La Reverse invece è il roto della perforazione colpo singolo E niente Niente signori Un Slurpuff Solo un Slurpuff Slurpuff Vediamo se Astri Lucenti Quindi Vuole renderci più piacevole questa apertura della collezione colpo di unione Perché Diciamo che i tre pacchetti Non sono stati particolarmente piacevoli Vediamo un po' Un, due, tre, quattro energia Un, due E vai E allora Castform In una delle sue forme qua è in colore Stroff Strumish Che ha sempre lì dietro Wulu Per chi non si è dimenticato Piplup Tootwig Viastro Clang Ambizione di Camilla Torcol E una carta della TG Dalla Trainer Gallery Ma che sarà mai questa carta? Chi la riconosce? Professor Professor Fuggifuggi 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 Che carta è questa? Indidi E' Ivi Ops E dietro abbiamo Lucariolo Ivi e Lucariolo Non male Non male Grazie a tutti per averci guardato E al prossimo video Ciao 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 Ciao!